ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da zero a 42 prima di iniziare con questo racconto devo assolutamente ringraziare un nuovo patrons gabriele orazzi che appunto si è aggiunto al sempre sempre più ricco gruppo di sostenitori grazie davvero gabriele per il supporto ma veniamo a noi vi avevo accennato nelle puntate precedenti della mia partecipazione in qualche modo a shaketrail non in quanto atleta ma come volontario quest'oggi a giochi fatti vi spiego meglio come è andato il tutto quest'anno ho tentato raccontavo anche questo un po di tempo fa in realtà per l'ennesima volta la lotteri di shaketrail e nonostante fossi uno di quelli con più ticket nel calderone non solo non sono rientrato tra i primi 300 estratti ma nemmeno tra i vicini a quelli lì tra i possibili ripescati shaketrail per me sta diventando un po la mia western states mettiamola così con la differenza che perlomeno non devo andare negli stati uniti per correre su questi sentieri in baglio quasi dietro casa e quindi come dice il detto se non puoi batterli unisciti a loro subito proprio pochissimi minuti dopo l'estrazione è andata male mi sono reso disponibile con gli organizzatori per dargli una mano come volontario ad esempio come scopa pensavo di perli oppure ad un ristoro o cose del genere perché volevo comunque in qualche modo restituire alla comunità trail e soprattutto a un a cui tengo qualcosina visto che non corro la gara sc perlomeno per sostenerla la faccenda è poi rimasta in stand by sostanzialmente per un po fino a che quasi dal nulla mi hanno addirittura proposto di presentare gli atleti della 100 chilometri ma perché questa cosa e perché questo discorso 100 chilometri in particolare per chiarirci meglio shaketrail nella sua versione storica quella che c'è da un po di anni è una gara da 47 chilometri con circa 2700 metri di dislivello positivo e pur non essendo una gara enorme non ha bisogno di presentazioni nel panorama trail italiano ma quest'anno hanno deciso effettivamente pure di creare una sorta di edizione sperimentale lunga per l'appunto 100 chilometri con pochissimi partenti una cinquantina al massimo e così una settimanella prima della gara è stata ufficializzata una sorta di serata inaugurale di questa 100 k con me ed altre persone ad intrattenere fino all'orario della partenza per tenere a battesimo insomma a questo evento è una cosa che non ho mai fatto in vita mia quella di presentare e raramente ho parlato ad un microfono al di fuori di casa mia è capitato giusto al festival del podcasting lo scorso anno ma in un contesto comunque completamente differente però ho deciso comunque di accettare e di buttarmi consapevole che è tutta arte che entra alla fine come dico spesso è giusto ogni tanto uscire dalla propria zona di comfort e sperimentare provare cose nuove sono comunque attività che ci accrescono e poi per me devo dire che è stato anche un onore esserci in questa veste è anche una sorta di piccolo riconoscimento per quel poco che comunque sto facendo in quanto podcaster sul trail e sull'ultra seppur ovviamente 100 per cento da volontario tutto pro bono per non farmi mancare nulla e per avere un'esperienza ancora più completa ho anche dato la mia completa disponibilità per essere ad un ristoro il giorno dopo praticamente h24 e così l'amico sirio negri anche lui tra gli organizzatori della gara ha pensato di coinvolgermi nello specifico in quello di biassa dove era lui il responsabile anche era devo dire per me abbastanza comodo logisticamente il più comodo tra tutti essendo relativamente vicino a casa giusto 10 15 minuti di scooter oltre che essere poi su uno dei miei sentieri standard di allenamento e quindi conoscevo anche bene la zona quando ad esempio in tabella ho i climb block e abito a spezia sono a spezia fisicamente parto da casa faccio una decina di minuti piatti di riscaldamento e poi passo proprio sulla salita di biassa per farmi quei 40 minuti continui di ascesa tra parentesi sirio è stato pure il mio primo ospite che ho intervistato e se vogliamo è pure stato il primissimo host di podcast sul tre in italia quando ancora i podcast non erano così diffusi come oggi con capri e bipedi andatelo a recuperare perché comunque anche a tempo ad anni di distanza ci sono puntatine interessanti sirio a proposito sei voglia ma soprattutto tempo ed energie conoscendoti ritorna a fare podcast che ci manchi ma tornando a noi come è andata poi nel pratico nello specifico partiamo andando in ordine cronologico ovviamente dal venerdì sera infatti la partenza della 100 cap era prevista a rio maggiore per la mezzanotte tra il venerdì e il sabato al pomeriggio di venerdì sono andato fisicamente al castello di rio maggiore dove poi alla sera si sarebbe tenuto l'evento giornata devo dire primaverile proprio per eccellenza con sole un bel caldo sono stato a lungo in t-shirt per dirvi del clima che c'era qua conosciuto personalmente francesco e i suoi compagni della band i grandi e fanti che cantano solo in dialetto rio maggiorese infatti come era strutturata la serata perché parlo di loro dopo un'introduzione istituzionale con i vari sindaci la consegna di un premio e la presentazione di un libro io e la suddetta band ci saremmo un po' dovuti alternare nella questione intrattenimento sia del pubblico che poi dei runner presenti che man mano sopraggiungevano alla zona di partenza per fortuna francesco e i suoi compari sono stati molto molto bravi brillanti e simpatici sanno effettivamente tenere il palco alla grande e hanno saputo proprio gestire tutta la situazione che era molto fluida per così dire infatti non avevamo proprio una scaletta ben definita di eventi e di cose da fare e abbiamo un po' improvvisato ogni tanto anche in base alle indicazioni poi che ricevevamo dalla parte organizzativa cioè comunque nel pomeriggio con francesco e la sua band ci eravamo confrontati e avevamo tirato giù una idea di massima delle cose da fare e da dire ma poi ovviamente molte attività e molti eventi sono cambiati nel corso della serata personalmente ho fatto qualche incursione tra una canzone e l'altra provando a fare quello per cui effettivamente mi avevano chiamato principalmente ovvero presentare i partenti della 100 chilometri ma la cosa si è rivelata più difficile del previsto perché qualcuno non era proprio in sala qualcun altro anche chiamato faceva finta di nulla e ci sta comunque questa roba qua un po' perché magari sei timidi e poi perché si è a un'oretta dalla partenza di una 100 chilometri e forse non si ha proprio la voglia lì tutti quanti non hanno voglia di stare lì a mettersi a fare i pagliacci anche solo per pochi secondi quando sei in queste situazioni a volte sei preoccupato oppure sei cercando la tua giusta concentrazione quindi ci sta e infatti sapendo queste situazioni come sono non ho infierito su chi non c'era o chi non se la sentiva li capisco benissimo so cosa voglia dire l'ansia pregara nei giorni precedenti mi ero anche preso la lista di tutti i partenti e per chiunque dal top a quello col punteggio itra più infimo mi ero comunque studiato tutti i loro profili utmb duve quant'altro per avere informazioni chiare sufficienti per presentarli ho fatto proprio un lavoro minuzioso anche se poi alla fine ne avrò usato un 10 per cento giù di lì comunque qualcuno quella si è prestato alla commedia fare del cabaret e con loro abbiamo fatto delle mini interviste sono cose che comunque dipendono molto dal carattere ovviamente anche la riuscita dipende dal carattere di ognuno alcuni runner erano più disponibili degli altri e per questo assolutamente li ringrazio però nonostante tutto eravamo in netto anticipo sui tempi con una serata lunga iniziata probabilmente troppo presto anche poi per i runner che erano lì da parecchio tempo in attesa del via ma ad ogni buon conto dovevamo tirare avanti la baracca in qualche modo dovevamo arrivare all'ora della partenza e così quella ho un po' improvvisato ad esempio ho inventato lì per lì un discorso sui pacer e su come siano una novità quasi assoluta nel mondo ultra italiano presenti qua a shock e 3 il 100k oppure ho coinvolto una delle scope per fargli spiegare quale fosse il suo compito anche perché credo avesse senso poi in qualche modo far entrare il pubblico dei non runner maggiormente nel mondo ultra francesco ad esempio mi ha chiesto di descrivere tutto il percorso della 100k e così via in qualche modo abbiamo trovato comunque una sintonia e lo ripeto di nuovo lui e il resto della band sono stati super in questa gestione che io da solo avendo oltretutto zero esperienza in merito non avrei saputo far filare così liscia sarebbe stata una serata molto più inquadrata invece loro sono stati bravi a renderla brillante e simpatica anche perché poi strada facendo nel corso della serata mi sono reso conto a volte di aver fatto qualche domanda ai runner forse troppo tecnica per il pubblico presente cioè non ho adattato il mio tono voice come si suol dire alla situazione mi sono comportato come se fossi qua dentro nel podcast dove tutti parliamo la stessa lingua cosa che magari runner avranno anche apprezzato ma forse il pubblico di meno non comprendendo di che gare si parlasse o alcune sfumature proprio da insider accorgendomi del mio errore in serata ho aggiustato un po il tiro in corsa ma anche queste sono cose che si imparano solamente con l'esperienza diretta tra le interviste ufficiali tra virgolette di presentazione e qualche parola scambiata a parte sono stato comunque felice di chiacchierare e conoscere un po di atleti impegnati poi alla 100k chissà che qualcuno non passerà anche di qua in futuro chi lo sa tra i partenti c'era anche l'amico daniele persico passato da questo podcast pure abbastanza di recente per una intervista a microfoni spenti ho chiacchierato un po con lui ed i suoi amici e mi ha fatto veramente piacere conoscerlo di persona però insomma tornando a noi la serata è andata anche discretamente alla fine della fiera nonostante si sia fatto tutto veramente molto abbraccio ogni tanto dovevo anche destreggiarmi con qualche semplice domanda in inglese il mio inglese veramente è raccapricciante sono molto arrugginito oltre a fare anche degli annunci sempre in italiano e in inglese su che ne so dove mettere la drop bag sul gps da accendere sulle operazioni pre partenza e così via arrivati a un quarto d'ora circa dalla mezzanotte abbiamo fatto spostare tutti i runner a un paio di minuti di distanza dal castello dalla chiesa dove c'era per l'appunto la partenza mi hanno dato in mano dal nulla un megafono e ho continuato a dare avvisi del tipo 5 minuti alla partenza oppure per favore accendete i vostri gps e così via mi sono piazzato proprio di fianco al cronometrista ufficiale e a un minuto dal via ho cavallerescamente ceduto lo scettolo del potere cioè il megafono alla sindaca di rio maggiore per farle fare il conto alla rovescia tutto molto casereccio ma emozionante al tempo stesso dopo la partenza di questi poco meno di 50 coraggiosi sono rimasto giusto qualche minutino a fare due chiacchiere per poi tornare anche rapidamente a casa dato che il giorno dopo sarei stato nuovamente sul pezzo e quindi dopo comunque sei ore qualcosina di sonno mi sono alzato e diretto a biassa al ristoro del chilometro 82 della 100k anche se moltissimi atleti passando ci hanno detto lì per lì di essere attorno all'84 85 secondo i loro orologi lì ho trovato sirio e moglie già impegnati nell'allestimento del ristoro assieme a loro c'erano viola che ci ha aiutato soprattutto al mattino e uno scout soldato da sirio per dare soprattutto delle indicazioni ad un incrocio successivo il scout poi in verità non erano solo lui ma sono stati tre in tutto si sono alternati quattro ore a testa ma sostanzialmente solo il primo è stato utilizzato a dovere gli altri due si sono limitati a prendere del freddo con noi poveracci un grande ringraziamento però pure a loro per la disponibilità piccola ma doverosa parentesi giusto per la cronaca sirio nei giorni e nelle ore proprio precedenti la gara è stato molto impegnato nel ripulire i sentieri della zona e balisare il tutto lo ha fatto con una precisione maniacale facendosi un culo come una capanna e non è stato di certo l'unico volontario a comportarsi così del resto devo dire che una 100 chilometri a maggior ragione alla prima edizione non è uno scherzo mi sono unito però insomma nelle operazioni di montaggio tavolo e abbiamo sistemato tutto acqua sali cibo striscioni vari bollitore e così via e poi abbiamo iniziato a dare un'occhiata al live tracking per capire quanto avremmo dovuto attendere per i passaggi dei primi la finestra prevista era attorno alle 8 e 40 8 e 45 ma invece la coppia di testa corsini a iello è transitata più di un'ora dopo rispetto alle previsioni segno di una gara piuttosto dura e complicata nell'attesa ho scaricato un'app apposita di endo per segnare manualmente i passaggi delle persone per fortuna devo dire qua i partenti erano meno di 50 e da noi i runner transitavano piuttosto scaglionati altrimenti sarebbe stato davvero complicato anche perché già così ci siamo persi qualcosa figurarsi con più atleti sul percorso avevo già fatto una mini esperienza di questo tipo ad un ristoro un paio di anni fa ma la cosa qua è stata molto molto differente in quell'occasione c'erano sì molte più persone ma concentrate nel giro di pochi minuti qua lo sciacquetrelli invece come potete facilmente intuire dopo 80 e rotti chilometri di gara con poco meno di 50 partenti le attese erano decisamente lunghe anche chi ho sentito successivamente tipo daniele persico mi ha raccontato di aver corso praticamente tutto il tempo in solitaria inoltre un conto è riempire una borraccia al volo a un runner dopo 15 chilometri in una gara da 25 un altro è fare un'assistenza completa a chi dopo tantissime ore consecutive si ferma mangia beve riempie tutte le scorte riprende fiato un attimo e poi con comodo riparte ci deve essere un'attenzione però superiore anche perché alcuni sono passati da biassa abbastanza finiti come può anche essere logico aspettarsi ci mancherebbe ed è doveroso che ci sia questa attenzione perché lo sforzo profuso da un atleta in tante ore così è enorme e ogni piccolo dettaglio anche apparentemente insignificante può aiutarli ad andare avanti al meglio in aggiunta banalmente ci sono più cose a cui dover prestare attenzione ad esempio sono stati inserito nel gruppo whatsapp degli organizzatori dove venivano date man mano le comunicazioni più importanti e fidatevi i messaggi erano tantissimi e costanti ma del resto pur essendo pochi i runner erano sparsi per tanti chilometri differenti lungo tutto il percorso come accennavo i primi da noi sono passati insieme ed è stato se vogliamo l'unico vero momento complesso da gestire anche perché non eravamo tanti al ristoro dato che nel mentre sirio si era anche spostato poco prima del ristoro stesso a un incluso stradale pericoloso e ci avvisava con la radiolina dei passaggi imminenti in pratica ero l'unico effettivamente un po' esperto di ultra trail presente al ristoro e cercavo un po' di gestire e organizzare il tutto mentre rifocillavamo i primi due simone corsini e gregorio aiello un terzo concorrente con peser annesso è transitato ma senza affermarsi e ce lo siamo proprio perso alla grande senza aver avuto il tempo di capire chi fosse e di segnarci il pettorale mi sono sentito un po' come alan tonetti non so se ve lo ricordate era quel giornalista in un celebre video di lui che deve seguire una partita di champions league dell'udinese per una tv locale e ogni volta che segnano lui non se ne accorge e invece di descrivere il gol che era il suo mestiere dice perso ecco anch'io in quel momento detto perso chi cazzo era il terzo e ora dobbiamo segnare un pettorale di chi tra i transitati anche perché il live tracking non ci aiutava particolarmente dato che alcuni gps non venivano segnati abbiamo comunque capito successivamente di chi si trattasse grazie proprio al gruppo whatsapp di cui vi parlavo e abbiamo aggiunto postumo il passaggio infatti solo vasuendo a cercare i tempi del terzo che era zuffellato scoprirà dei parziali completamente sballati tra le altre cose pur essendo i primi e per me comunque degli alieni non li ho visti brillantissimi corsini lo ricordavo decisamente più brillante in altre occasioni tuttavia alla fine ha comunque chiuso bene la gara e la vinta ma senza troppo margine sugli altri dopo questo battesimo del fuoco la situazione in realtà è andata stabilizzando se si è fatta man mano più agevole tant'è che al passaggio di daniele persico mi sono pure potuto concedere il lusso di accompagnarlo per un chilometrino di salita e tornare poi indietro con calma al ristoro mi ha fatto davvero piacere poterli dare una piccolissima mano seppur minima nel sostenerlo mi sarebbe in realtà piaciuto proprio poterli fare da pacer come mi ha chiesto di fare ma per i ben noti motivi di bandelletta non ho ad oggi 30 chilometri con dislivello nelle gambe senza dolori e inoltre essendoci così tanta penuria proprio di volontari era in qualche modo necessario per me essere presente il più possibile al ristoro comunque sia l'ho sostenuto moralmente per 10 15 minuti prima appunto di tornare indietro ed essere nuovamente operativo verso l'ora di pranzo viola doveva andare via e siamo rimasti sostanzialmente in due a presidiare la situazione non che ci fossero comunque problemi particolari i passaggi erano molto radi e anche chi transitava iniziava a farlo con sempre meno fuga poco dopo il tempo purtroppo anche iniziato a guastarsi ed è venuto pure parecchio freddo pioggia e freddo peccato sia per noi che per gli atleti un percorso poi in alcuni tratti già tecnico è diventato pure più scivoloso con la pioggia e così pure sirio in verità è rientrato alla base al ristoro tanto ormai lui serviva a ben poco lì all'attraversamento di qualche metro prima dato che giusto i primi 4 5 arrivavano belli cacciati gli altri ormai a questo punto della gara camminavano a maggior ragione sotto la pioggia dove il terreno del sentire in discesa prima di biassa diventava anche scivoloso e piuttosto tecnico nei momenti morti oltre a guardare il live trekking di shaketrail per provare a intuire quando sarebbe stato il passaggio successivo davo uno sguardo anche al live del chianti ultra trail dove avevo più di un mio allievo impegnato approfittando di un buco piuttosto lungo tra due passaggi ho fatto anche un breve pit stop a caso dove mi sono cambiato e coperto maggiormente in vista della serata serata che pian pian incumbeva sempre di più in attesa degli ultimi guardavamo speranzosi tutti quanti nel live la posizione delle scope sperando che fossero in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista anche perché nel mentre proprio da noi erano sopraggiunte le nuove scope pronte a dargli cambio a quelle che avevano corso la fase centrale di gara che erano attualmente in gara in effetti alla base vita del settantesimo chilometro a ricco del golfo quelle scope sono transitate con un'oretta di anticipo e quindi eravamo belli ottimisti peccato che l'ultima concorrente a di svartanghen per la cronaca da lì in poi si è letteralmente piantata rallentando moltissimo iniziando a giocarsela coi cancelli alla fine è riuscita a passare per pochissimi minuti in tempo all'ultimo cancello post a manarola e così ha terminato la sua gara ma non è arrivata entro il crono massimo previsto e così è finita comunque fuori classifica pur concludendo la gara quindi massima stima chapeau per l'averla chiusa nonostante tutto tra tutti i vari atleti transitati ho salutato ed incoraggiato letteralmente chiunque danno indicazioni e scambiando anche qualche parola con quelli con cui avevo stretto amicizia la sera prima destreggiandomi alla buona pure con l'inglese o il francese in alcuni frangenti inoltre a fredapesa era un concorrente c'era anche filippo caon con il quale lì a ristoro ci siamo ripromessi una qualche collaborazione podcastica futura c'è stato solo un altro piccolo attimo di terrore quando nel gruppo whatsapp dell'organizzazione era stato segnalato un runner francese completamente fuori traccia ma per fortuna era già verso fine gara ben oltre il nostro ristoro ed è stato recuperato anche abbastanza rapidamente seppur sia stato costretto a ritiro credo comunque che abbia terminato ugualmente la gara ma senza poi pettorale e senza quindi di conseguenza poter rientrare in classifica attendendo gli ultimi due atleti almeno ha smesso di piovere ci siamo pure mangiati una pizza nel mentre e io ho offerto un paio di fette allo scout congelato poi finalmente dopo aver chiacchierato devo dire a lungo con le scope molto simpatiche anche loro che attendevano le altre scope è transitata Heidi l'ultimissima atleta e ci siamo potuti rilassare definitivamente del tutto erano comunque le nove di sera passate io e sirio abbiamo brindato così con una birretta all'operazione riuscita con successo e dopo abbiamo sbaraccato il tutto tra una cosa e l'altra sono tornato a casa le dieci passate stanco come se avessi corso io letteralmente da buttare nell'umido ma comunque contento però devo dire che è stata una bella esperienza e mi è piaciuto proprio essere nel vivo di una gara seppur con tempistiche molto dilatate come questa che da un lato è una cosa che toglie un po di adrenalina e costringe a tanti momenti vuoti ma non altro consente anche di assaporare meglio e con più calma le sensazioni e ciò che stanno provando lì in quel momento gli atleti dato che tolti primissimi tutti quanti si fermavano per un po prima di ripartire nel corso di tutta la lunga giornata ho cercato di essere il più disponibile gentile possibile per chiunque passasse dalle nostre parti ho fornito più indicazioni possibili sulle salite sui chilometri da venire sul dove girare sul come affrontare il percorso che sarebbe arrivato di lì a poco e così via ho dato ovviamente massima attenzione ai runner ma non mi sono mai scordato neppure dei loro pacer ho agito insomma esattamente come vorrei capitasse a me nel caso mi trovassi dall'altra parte della barricata come di solito è oltretutto e mi piace pensare e sperare che anche solo un sorriso una battuta in più possono aver dato quel piccolo extra per chiudere la gara al meglio qualcuno mentre passava ci ringraziava e anche tanto ma anche successivamente abbiamo tutti quanti ricevuto tanti complimenti dei vari atleti e questo per me e per tutti quanti i volontari credo valga moltissimo sono contento che tutto alla fine sia andato per il meglio e che in tanti davvero abbiano apprezzato i nostri sforzi e come anche scritto nel post instagram che ho messo subito dopo la gara tra i volontari di shock e trail non sono nemmeno quello che si è fatto il mazzo più di tutti per chi corre soprattutto ultra credo sia un'esperienza da fare almeno una volta nella vita sarebbe quasi da mettere obbligatorio estremizzando un po come fare del trail work cioè pulire i sentieri si capiscono tantissime cose in più sfumature sfaccettature che manco pensi possano esistere quando corri e basta tipo segnare i passaggi o un gruppo whatsapp dove coordinarsi tra diversi ristori ricordo ad esempio quando ho visto passare uno piuttosto messo male e di averlo scritto nel gruppo per dire poi ai controlli successivi di prestarci particolare attenzione sono piccolezze ma credo sia con queste sinergie che si possa operare meglio noi volontari offrendo agli atleti così l'esperienza migliore che si può dare vivendo una giornata del genere pure noi quando siamo in versione atleti forse possiamo anche comprendere meglio tante complessità dell'organizzare e gestire una gara apprezzare meglio qualche sfumatura e capiamo cosa significa essere volontari e magari così capendolo si diventa ancora più gentili nei confronti di chi è fondamentale per far sì che la gara si possa correre con successo e insomma banalmente credo sia andata bene sono davvero contento intanto personalmente di aver vissuto un'esperienza di questo tipo e sono comunque al tempo stesso orgoglioso io per primo del risultato finale e di aver messo il mio mattoncino seppur piccino picciò per questa edizione inaugurale della 100k di shaketrail per chiudere vi ricordo di seguirmi su instagram su telegram e se volete fare una donazione una tanto un c'è paypal o bei mia coffee oppure se volete fare come gabriele farlo in modo ricorrente mensile tramite patron grazie ancora gabriele a proposito sempre nelle noti ci sono tutti i link per seguirmi e per sostenermi e dire che per oggi è davvero tutto cari runners se non avete mai provato in precedenza a fare i volontari dovreste tentare per capire davvero meglio cosa si prova e come funziona ci sentiamo alla prossima puntata